Siamo con Roberto Arone, come ci chiamiamo, il grandissimo allenatore della formazione, che in questo momento siete a punteggio pieno. E che allenatore? Buonasera a tutti. Siete a punteggio pieno, Roberto. Siamo a punteggio pieno, sì, ci incontravamo molto in questa vittoria, soprattutto speravamo i buoni parziali, perché così potranno arrivare a essere appunto nei piani alti, già ci sono dal pink. Io vorrei solo dire che senza cartellino sono arrivato a questo risultato, mentre c'è chi invece ha il cartellino, però non riesce a ottenere i miei stessi risultati. Ma io volevo parlare proprio di questo, perché so che tuo fratello Sergio è fresco presto di allievo allenatore, eppure tu, zitto zitto, quattro quattro, ti ti è tenuto in una panchina, hai creato una squadra fortissima, inutile negarlo, e sei primo in classifica. Ad oggi i risultati diranno ragione. Sì, sì, devo solo dire una piccola puntualizzazione, nel senso che io ho tenuto conto dell'aspetto umano, più che altro, perché siamo tutti amici, e quindi è giusto fare giocare tutti, è giusto fare giocare nel ruolo che più gli si addice, in maniera tale che ci possiamo divertire. Sergio, nonostante, secondo me, abbia la squadra più forte rispetto alla mia, però ha preferito giocare molto più di tecnica e di tattica, basandoci solo su numeri e ruoli, piuttosto che sulle persone. E con questa polemica in famiglia, Arone, noi salutiamo Roberto e attendiamo la risposta di Sergio. Ciao, Robby! Grazie. Grazie.